Eccoci Sì, allora siamo in diretta dalla piazzetta di San Giuseppe siamo con il caro Enzo Traviglia per raccontarvi di questo pomeriggio possiamo definirlo un pomeriggio di storia, di tradizione? Ma anche di storia e soprattutto tradizione Tradizione Ecco, allora diciamo che quello che si sta per consumare è un momento della festa di San Giuseppe è importante, guardiamo la nostra telecamera, salutiamo tutti gli amici che si stanno seguendo che sono tanti Scusa, tanti auguri a tutti Giuseppe e a tutti i papà del mondo Benissimo Oggi San Giuseppe Ecco, Enzo saluta i Giuseppe, io saluto le Giuseppe e così siamo a pari Allora, dicevamo dunque oggi questa, la seguiremo anche in dettaglio che cosa, che cos'è quest'asta Enzo? Ma vede Lorenzo, quest'asta è la vendita dei doni dati a San Giuseppe ma sono delle feste che si tramandano nel tempo Si ricordano un po' i miti dell'antica Grecia, di Roma per imbricciarsi la divinità All'epoca si portavano i doni si portavano molti doni e io ricordo del ragazzo quando c'era la scelata dei cavalli addirittura erano tutti che portavano del pane dei sacchi di grano da ambo le parti dei cavalli e allora succedeva che portavano anche delle spighe che le conservavano apposta per la festa che portavano fasce di carciofo tutto ciò che la terra nel periodo pre-Bavariglia offrì questo perché? per ringraziarsi la divinità del prossimo raccolto perché adesso siamo a marzo che poi in estate come sappiamo a giugno comincia la mattitura perciò tutto questo era fatto in funzione della divinità che potesse elargire tutti quei doni che la terra offrì e che veniva offerto proprio alla divinità quindi siamo praticamente in un rito assolutamente pagano profiziatorio che poi ovviamente come da tradizione la chiesa ha fatto diventare proprio ed è diventata la festa di San Giuseppe la festa di San Giuseppe cos'è? la fine dell'inverno è l'inizio dell'estate e quindi è diciamo la primavera cambia il tempo bene allora dopo questa diciamo premessa adesso il nostro cameraman Davide Cristoforo entrerà nel vivo della festa noi ci fermiamo per un attimo e dunque adesso potete vedere dal vivo direttamente le immagini dell'asta noi torneremo dopo e dunque adesso potete vedere dal vivo di San Giuseppe bene 10 euro 10 euro 10 euro 10 euro 10 euro 10 euro Uno, dieci e due, viva tutti i primi. 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 Uno, due, venti e due, venti e due, venti e due, venti e cinque. Viva tutti i primi. Viva tutti i primi. Cinque euro.